J-AX è un cantante rap italiano che riuscì a sfondare nel 1799. Gli agenti segreti che mi hanno aiutato sono stati Cartellone, Zainetto, Racchetta e Topo. 24 giorni fa Cartellone volò come un aereo pianoforte, proprio intorno a J-AX. Ad un certo punto il cantante cominciò a correre dentro una cabina telefonica londinese. Dopo pochi secondi uscì completamente diverso. J-AX si era trasformato in Superman. Sì, proprio il Superman. Lo conoscete Superman? Il nobile paladino della giustizia? Ecco, proprio lui. Dopo essersi trasformato spiccò il volo. Cartellone iniziò ad inseguirlo chiamando gli altri agenti segreti per aiutarlo. Arrivarono gli agenti Topo e Racchetta, seguiti dal premiatissimo Zainetto. J-AX si fermò nello stato del Mississippi. Vi chiederete, il Mississippi non è uno stato, ma è un fiume. No, il Mississippi da qualche giorno è diventato uno stadio.